Nel giorno in cui si aprono ufficialmente le operazioni di mercato, Delicarri aspetta fiducioso il sì del giovane difensore della Fiorentina Lorenzo Lucchesi. Assistito da Vigorelli, il ventenne centrale mancino è tentato da un club francese di Serie B, purtuttavia negli ultimi giorni sembra essersi riavvicinato al Pescara. Non resta che attendere e si nutre fiducia. L'Eston e Tuniov sempre più vicino al Delfino, c'è già la volontà dell'ex Spalle Carrarese di lavorare con Zeman e sono stati superati gli ostacoli relativi alle commissioni chieste dagli agenti del calciatore e alla percentuale sulla futura rivendita. Purtuttavia l'intesa deve essere ancora formalizzata. Servono tre terzini, è rimasto solo Milani, il DS Biancazzurro spera che la Juve di Al Placet per il classe 2003 Savona, in realtà più fattibile ottenere sì della Fiorentina per Pierozzi. A dire il vero si tratta di un nome già accostato al Pescara lo scorso anno, non se ne fece nulla, ora la situazione appare diversa. Nell'ultima stagione Pierozzi ha collezionato solo cinque presenze in B con la maglia del Como. Tra i candidati a ricoprire il ruolo di terzino destro non c'è più Saccani che a Pescara ha giocato pochissimo, appena due presenze in campionato, prima di trasferirsi a fine gennaio alla Pergolettese. Piacciono i portieri Daniele Borra, classe 95, ex Entella da oggi svincolato, il 27enne Samuele Massolo di proprietà del Palermo, il 21enne Giuseppe Ciocci, ex Olbia di proprietà del Cagliari, ristabilitosi circa tre mesi fa da un grave infortunio al ginocchio. Cancellotti da oggi svincolato è nel mirino dell'Avellino, niente proposta di rinnovo da parte del Pescara, da oggi il 31enne terzino di Gubbio è ufficialmente sul mercato, piace al club Irpino che però deve prima piazzare ben 12 giocatori in uscita. C'è da attendere comunque l'inizio della prossima settimana per il ritorno di Merola, ci sono tutte le condizioni come anticipato, l'attaccante Campano firmerà un triennale. Deve essere solo annunciato anche il 21enne regista Nicolò Squizzato che il Pescara ha preso a titolo definitivo dall'Inter, qui è stata riconosciuta la percentuale del 40% sulla rivendita futura del calciatore ex Juve Stabia e Renate.